Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare prima di supportarci mettendo mi piace a questo video e iscrivendoti al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo da poter ricevere tutto ciò che è nuovo, e grazie, se una depressione d'aria ruota in senso anti-orario, si entrerà nella regione del bacino occidentale del Mediterraneo, passando per la Spagna nel sud della Francia, e raggiungerà gradualmente l'Italia, a partire da martedì 13 giugno, fino a sabato 17 giugno 2023, con quantità di pioggia molto abbondanti che vanno dai 20 a 160 mm, con il rischio di forti alluvioni, soprattutto in Sardegna da nord a sud, e anche nel centro e sud Italia fino a nell'isola di Sicilia e zone separate anche da nord, e come si può notare nelle immagini i luoghi di colore blu simboleggiano bassa pressione e basse temperature con il ritorno di forti piogge abbondanti e anche di freddo, dove le temperature scenderanno sensibilmente in tutte le regioni d'Italia in particolare, e nel bacino occidentale del Mediterraneo in generale, e come sapete tutti i temporali sono noti per la difficoltà di monitorare e definire con precisione le aree interessate, quindi aspetteremo che il periodo si avvicini ulteriormente, e vi forniremo pubblicazioni che possano essere allerta, soprattutto del pericolo di ritorno di piene e grandine di piccole e grandi dimensioni, e maggiori dettagli, come ho detto, rimanete sintonizzati per loro durante i prossimi aggiornamenti.